Siamo a Weekend On, sono in compagnia di Ivan Lovati della società GDS. Che cosa proponete in fiera? Abbiamo queste serie di articoli che commercializziamo all'ingrosso, solitamente, siamo qui per presentare le nuove linee NG Hot e Dengi che importiamo di nuova importazione e in più abbiamo i nostri marchi soliti, Body Fruit, Colors e quant'altro. Che particolarità hanno i prodotti che voi proponete? Sono la linea Body Fruit, una linea fruttata, composta da frutti esotici tropicali di provenienza del Brasile principalmente, poi invece i profumi sono profumi sbarazzini, giovani e freschi per ragazzine moderne. E la nuova linea che proponete sono proprio i profumi? Sì, profumi NG ed NG Hot. Colpiscono due target un po' diversi, diciamo la ragazzina giovane e le teenager un po' più grandi. Tu mi hai detto che siete una società di distribuzione per cui i vostri prodotti vanno nei negozi? Si trovano nelle principali catene di grande distribuzione, tra cui possiamo dire Gran Casa, Iper, Il Gigante, Bennett, oppure anche in qualche profumeria, soprattutto in sud Italia però. Si può anche acquistare online? A breve attiveremo anche un servizio di acquisto online. Sui nostri siti trova maggiori informazioni bodyfruit.net e grocerydistribution.it Grazie a tutti.